Ciao! Eccoci Lino! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta? Eh vabbè dai! Grazie! Grazie mille per averci dato della tua disponibilità oggi! Figurati, è un piacere dai! Facciamo una piccola introduzione. Allora, Bman, come sai, è un servizio che si occupa di consulenza di immagine per uomo e noi ci siamo incontrati appunto perché per offrire l'eccellenza italiana ai miei clienti io mi sono rivolta a te. Perché direi che una piccola introduzione tua, anche se ormai tutti ti conoscono, sanno chi sei, sanno la tua storia perché sei un mito, una leggenda, soprattutto qui a Milano. Raccontaci una piccola introduzione. Ma è cosa che ti dica? Io per me, ecco, noi facciamo questo lavoro ormai da 50 anni chiaramente, divertendoci per il presupposto perché è una cosa che ci piace così tanto che a noi non costa fatica, capito? Per cui siamo sempre in cerca di cose particolari, un po' diverse e facciamo molta diversità su tantissime cose, capito? Per cui, e soprattutto il fatto che non siamo tradizionalmente in un negozio normale, nel senso che comunque ce la prendiamo e la mettiamo sempre su un piano molto sull'amicizia, sulla conoscenza, meno etichetta se vuoi. E' più divertente, più divertente, c'è più da così. Passiamo anche il tempo molto piacevole, ecco, in questo lavoro che a noi piace molto, tra l'altro. Ci vuole passione? No, tanta. Qua, se non ce l'hai, è finita. Devi avere tanta passione, così. Cosa ne pensi del ruolo della consulente d'immagine che si propone a servizi come il tuo, a botteghe così speciali come la tua? Guarda, ti dirò, può essere una chiave molto intelligente guardando al futuro, dove la gente chiaramente ha meno tempo, specialmente chi è impegnatissimo, professionisti e cose varie. Per tanti profili. C'è capito, per diversi profili, per cui hanno veramente bisogno di qualcuno che li dia una mano, che li aiuti, che li alleggerisca di questo peso, visto che hanno tanti da portare, chiaramente. E potrebbe essere in questo prossimo futuro, perché si sta avvolgendo veramente, si sta allargando tantissimo questa cosa. Molto, sì. E secondo me è una cosa che sarà molto, ma molto utile per molte persone, devo dire. Noi facciamo la nostra parte per quanto riguarda il nostro voto che facciamo, ce lo inventiamo, giochiamo sulle cose, su colori. Però chiaramente molte volte la gente non ha il tempo, specialmente a certi livelli, di dedicare personalmente, proprio di perdere le ore. Allora diciamo che consulente d'immagine è quello che ti allieva e ti toglie questa possibilità di perdere tempo, capito? Diciamo che tutto parte dall'armadio, no? Come abbiamo già accennato. Quello sicuramente. L'armadio è fondamentale, te lo dico. Quello sì. E devo dire che questa immagine deve guardare il suo armadio e far sì che non le manchi mai niente, per qualsiasi occasione. Ma ci vuoi parlare un pochino del tuo armadio? Diciamo un pochino che cosa sono le cose più ad hoc, diciamo, le cose più importanti da mantenere? Così o meno magari ti do anche una… Beh, non hai bisogno di un aiuto perché ovviamente… No, no, no. Le cose basiche… Ma sai, ti dirò. Io intanto distingo il fatto di… a chi piace vestire, chiaramente, proprio il sapore del vestire, che le piace. Cioè, proprio sai, quando ti piace vestire. A me vestire piace. Per cui il mio armadio è pieno. Nel senso che, al di là della base, che è… Tu devi avere il tuo blazer blu, i tuoi due abiti, un grigio-blu, un gessato, di garaglia stretta… Una capsule collection. Una piccola collezione tua personale. Chiaramente è fondamentale. Il tuo smoking bianco, che per me è fondamentale. Io adoro smoking bianco. Il tuo smoking chiaramente scuro. E poi ci giochi, capito? E poi tutto il resto è passione. Tutti i resti, gli abiti che hai, che io ne ho tantissime giacche, colorate, rosa, gialle, verdi. È la passione che tu hai per il gusto di vestire. Vestire e non coprirsi, capito? Perché la differenza è notevole. C'è gente che si copre perché al mattino avrà un armadio e si mette la prima cosa. E quello si copre. Chi invece si veste è quello che sceglie, capito? E questa è una grossa differenza. Tu compri e ti metti lì le cose per poter scegliere. E alle volte anche se non le metti non è importanza, capito? Ma tu devi averle. Concordo pienamente. Infatti il consulente in immagine solitamente cerca sempre di far fuoriuscire un pochino la personalità del cliente, no? Quindi dare quella base di un guardaroba basico, come si suol dire, appunto capsule wardrobe con le cose più importanti da avere che si possono poi gestire e fare un mix e match in particolare con tutto. E poi avere, come dici tu, quei punti cardine da mantenere anche in più, come immagino che il tuo guardaroba sarà abbastanza pieno di tante cose che sono in più, che ti danno quel valore aggiunto poi durante il giorno. Quello sì. Infatti ti dico io molte volte, quando insisto anche con gli amici, i clienti, e dico che non è che devi comprare perché devi indossare immediatamente, partendo dagli accessori anche. Alle volte compri per il piacere di averli lì e di avere il piacere di indossare quando hai questa voglia, capito? Tipo cravate, tipo pochette, tutte queste cose qua che sono oggetti abbastanza particolari. Noi abbiamo migliaia di cravate, poi le metto tre, capito? Però quella volta che devi fare l'abbinamento, che cerchi la cravatta e che tu vuoi, allora l'abbiamo, capito? Ed è una goduria perché ti senti soddisfatto perché comunque è la cosa più bella che esiste, capito? E su questa cosa qua sono bravissime le donne. Comprono per non indossare. Indossare quando ne hanno voglia. Io ammiro le donne per questo motivo qua, perché loro hanno questa forza che noi dovremmo imparare molto da loro, capito? L'uomo dovrebbe imparare molto le donne su questo profilo. Comprare, tenerli. Visto che hai un pochino nominato la sfera femminile, la differenza tra la moda maschile e la moda femminile. Io dico sempre che da consulente ho notato che essendo consulente nella sfera appunto maschile l'uomo ha fatto molto di dettagli, no? Quando la donna, come dici tu, ha tanta offerta di qualunque tipo di modello, di tessuto, l'uomo ha quei pezzi basici dove poi puoi giocare proprio alla personalizzazione. E in questo come aiuta il bazar, no? Sì, noi aiutiamo nel senso che intanto cerchiamo di dare qualche idea diversa e uscire dagli stereotipi normali, tradizionali. Giocando sul colore, su alcuni abbinamenti particolari un po' osè, che potrebbero essere ma non lo sono. Giocando su colori che ti possono dare diciamo qualche voglia in più, essere un po' più spiritoso anche, un po' più sfacciato se vuoi nel vestire, capito? Per cui noi, secondo me, quello che è il nostro dovere è quello che dobbiamo dare qualcosa veramente di diverso alla gente quando compra. Assolutamente. Fagli proprio vedere che tu stai facendo qualcosa di diverso. Vuoi dare l'accesso alla cravata, alla cintura, dalle scarpe. Cioè, che molti dicono, ah no, ma lì le tue scarpe non si possono mettere. Io non è che devi metterle, ti devo un piacere. Poi non è importante, cioè, chiaramente parlerà sempre di chi può e non può, non è che possiamo fare, capito, al cinema. Però tu vuoi, non hai il coraggio oggi, ma ce la fai domani. Io ho visto veramente gente che non aveva il coraggio di indossare le scarpe mie bicolore, inizialmente le prese. E a distanza di mesi, io ho rivisti entusiasti. Perché poi ti scappa una molla che un giorno strano che tu dici, ah, o la metti con un jeans, ah, e ti piace. E a questo punto, quando ti piace, gli altri non la metti più. È un po' come il doppio petto. Tu metti il doppio petto e non l'hai mai messo. Lo metti una volta, se poi ti senti gratificato, ti senti che ti piaci tu, piaci agli altri e hai un riscontro positivo, è fatto. Assolutamente. Parlando di colori, immagino che tu conosca l'armocromia, tu sei un grande amatore dei colori. Quanto può servire da consulente d'immagine, no, da consulente d'immagine sicuramente, a me personalmente l'armocromia è uno strumento che mi aiuta molto ad assistere il cliente per poi far sì che qualunque tipo di acquisto sia quello giusto e che possa essere tutto molto flessibile, appunto, all'interno di un guardaroba. Quanto invece a un cliente che viene da te, magari consigliato e seguito appunto da una figura come la mia, avendo già delle idee chiare rispetto alla tabella colori da poter utilizzare, può essere di aiuto nel caso in cui poi tu devi andare a consigliare determinati outfit per determinati eventi o pensi che un cliente che venga e che non sa nulla è più… Ma sai, normalmente la gente viene già, quando viene da noi, in special modo, è già tratta, sa che viene per cercare qualcosa di diverso, sa che viene chiedendoti qualcosa di diverso, per cui già lì parti con un vantaggio che devi offrire qualcosa di diverso, capito? Per cui puoi essere un po' più forte, meno forte, capisci poi dalla persona che è di fronte se può accettare un colore più di un altro, capite? Per cui cerchi di giocarti in un certo modo. Oggi i colori pastello nella micromonia sono tutti i colori più delicati, sono molto più… Nell'armocromia lì, nell'armocromia. Io sono così, mi dà chi appare così. Lo so, lo so. Questa roba così, capito? E sono quelle cose che… a me è capitata una volta una cliente, una cliente che poi è un'altra amica, che era andata a fare tutta questa specie di girovagazio pastello nella micromonia. E mi dice, no, noi ci dobbiamo vestire solo di azzurro, perché il colore… in realtà cambiamo tutto in casa anche su azzurro, capito? Per cui poi ci sono poi quelli che esagerano, sono un po' esagerati, capito? Sì, sì, concordo. Ci sono dei… C'erano dei parametri anche un po' diversi, non è che tu devi fare tutto. Però io ti dico che se tu i colori ti aiutano tantissimo, ti aiutano anche l'umore delle persone, ma tantissimo l'umore. Io dico sempre che in vestiti vestiti nero sarei sempre triste, aperte in sua parentesi. A parte la donna, la sera, c'è un discorso, io parlo di uomo, ma sarei sempre triste con il nero. Su questo, guarda, posso scrivere… Tant'è che al Bazar il nero non esiste, diciamo. No, a me non piace il nero. Io il nero mi metto a tristezza, per cui ti dico non mi piace il nero. Dico amo tutti i colori, tranne che il nero. Però noi abbiamo dei colori bellissimi, capito. Noi abbiamo dei colori. La nostra storia ci insegna tutte le trolle dei pastelli, degli azzurri, delle nocciola, ad esempio dei salmoni, di questi rosa un po' spenti, di quel colore un po' caro, cioè che sono veramente belli, capito. E un uomo li può indossare facendo gli abbinamenti, degli accostamenti giusti, capito. Non puoi abbinarmi le cose strane. Infatti su tutto questo profilo noi cerchiamo sempre di… No, certo. Anche perché io ne avremmo pensato. E poi assieme si può comunque fare un ragionamento su come potrebbe stare. Poi non c'è come indossare per capire l'espressione che la persona quando l'indossa ha e capisci che c'è un gioco che viene fuori, capito. E vedi già l'espressione del viso che ha. C'è un'espressione positiva o negativa, la vedi subito. Poi tu gliela aggiusti pian piano, capito. Questo è secondo me fondamentale. Ed è fondamentale avere una persona vicina, in questo caso come voi, che si occupano di queste cose che cercano già di indirizzare queste persone, capito. Che vivono magari sempre di blu e grigio. Tanto per dire, senza niente a togliere, chiaramente. Sono fondamentali. Però è così, capito. Lì, chi ha di indire. E non ha modo di uscire. Mentre avendo la possibilità, nell'ambito anche dei lavori che uno fa più o meno, calcolando l'abito di mattina, di pomeriggio, che può metterlo durante il giorno totalmente, durante la giornata, potrebbe anche utilizzarlo per un aperitivo. E giocare anche su qualche altro colore, sempre inerente al suo professore e al resto che fa. Solamente con una piccola spinta, dicendo che si può usare, capito, senza problemi. Che poi magari inizialmente si può fare quel piccolo passo con magari una pochette, piuttosto che un asco, piuttosto che appunto le tue cravate stupende, lanose. Sì, dove puoi giocare come vuoi. Dalle cravate, ti ripeto, in lana. Io le adoro perché avviene un nodo stupendo, non si slaccia mai. È bellissimo. A tutte le micro disegni in seta, che oggi sono dei micro disegni bellissimi, che gioca con dall'arancio al salmone, al giallo ocre, al giallo pieno, a verdier acqua, agli azzurri, che sono bellissimi. Micro disegni che si abbiano tranquillamente sugli abiti gessati, piccoli, medio, grandi, nei vari colori. E ti rinnovano l'abito. Questo è il fondamentale. Ti rinnova completamente, questo sì. Verissimo. Una domanda di cui noi abbiamo in verità già discutito. Stile, moda, gusto? Definiamo un po' questi termini. Moda. Parliamo della moda. La moda è come il vento. La moda va, viene, passa, ritorna. È come un po' di vento, ti passa. Secondo me la moda è molto passeggera, molto volubile e volabile, nello stesso tempo, perché va e viene. Questa è la moda, bella, brutta che sia. Io ritengo di non parlare mai di moda. Io preferisco parlare più di stile, più di gusto. Così è una questione mia personale, senza avere niente contro la moda. Perché ritengo che ognuno di noi dovrebbe scegliere qualcosa che sia di suo gusto, di suo gradimento, che il suo fisico e il suo essere lo gradisca, capito? Assolutamente. Come tutti noi possiamo. Questo è fondamentale. Piuttosto che adeguarsi a un concetto di moda che non è il tuo. Perché non è il tuo. E questo è esattamente, assolutamente, questo è esattamente lo scopo da consulente d'immagine e l'obiettivo per i propri clienti, no? Quello di fare fuoriuscire un po' la personalità del soggetto, infatti sì. Questo sì. Questo ti dico. Normalmente tu quando vedi camminare una persona per strada, la guardi e puoi pensare e dire che è una persona affascinante, a stile, capito? Diverso che dire, hai visto Armani? Adesso per amore, non me le voglia. Non volevo dire scusa. Poi l'adoro, lo conosco, l'adoro, non c'è problema. Non è una firma, capito? Che dici, ah ma hai visto questo? No, diciamo che l'uomo affascinante, l'uomo con stile, ha un portamento stiloso, ne guadagna lui, non è, capito, quello che c'è. Ma lui è così perché? No, lui è così perché è lui. Diciamo anche che quando hanno una mano, no? Un pochino appunto a cercare questa, a trovare questa personalità e identità soggettiva, una volta che poi, sai, si iniziano a piacere e gli dicono, ah però, capito? E a quel punto esce fuori quell'attitude di cui tu stai parlando. Esatto, questo è, capito? E infatti il bello di questo è proprio quello, capito? Poi non c'è come essere, tu cammini, vai in ufficio, fai mille cose ed essere gratificato delle persone che hai attorno. Io sento molto spesso dire, sai, sono andato in ufficio, mi hanno fatto dei complimenti, sai, che non mi hanno mai visto così in un certo modo, mi hanno visto così. Cioè, e ti senti anche tu, non so, più pieno di te stesso e dici, no, in fondo hai visto, anch'io. Cioè, ho cambiato qualcosina, man mano cambio qualcosa, si cambia, come tutte le cose cambiano, non è che rimangono fossilizzate. Assolutamente. Per cui hai tutte queste cose qua che ti portano, e ti garantisco che hai dei benefici enormi, enormi. Concordo pienamente. Ma anche dalla percezione che poi tu hai di te stesso, a cui poi la gente… No, no, perché ti senti bene. Tu al mattino quando esci, che ti sei guardato, io lo dico sempre, anche quando ne faccio i miei video, dico, quando tu esci e ti guardi allo specchio, tu esci e spaccheresti il mondo, perché ti senti a posto. Io se usci al mattino non sono a posto, non ce la farei uscire. Esco e ritorno, esco e ritorno, perché non mi sento a posto. Voi sbagliate la carvata, ho sbagliato la già… Cioè, non mi sento a posto, capito? Ecco, questa è una cosa fantastica, che quando tu inizi la giornata, ti guardi, hai fatto la tua barba, ti sei messo a posto, ti guardi e ti senti… esci. Sai quando ti senti forte, capito? È così. E questo è uno dei vantaggi che ti dà, capito? Una cosa che cerco sempre di sottolineare, anche con i clienti, è il fatto di quanto sia importante la qualità del tessuto che indossi, no? Perché appunto per quella cosa dei dettagli nel… su un uomo, che è fatto di dettagli, è fatto di personalizzazione, anche è fatto di qualità. E non è tanto quello che indossi, ma è come ti cade addosso e quello che provi appunto indossandolo. Quanto sono importanti i tessuti per i completi? Questo è fondamentale, chiaramente. Non può esserci un buon tessuto, diciamo che i tessuti hanno delle scale. Allora, se siamo su una scala media, abbiamo una buona media di tessuti, una buona media. Poi abbiamo le eccellenze, che sono quelle dove fanno la differenza e lo noti proprio, lo vedi. Lo vedi a distanza, che dove fanno la differenza il tessuto. Diciamo che poi lo vedi a distanza, gli stessi piccoli accorgimenti dalle asole, gli occhielli, cioè i tessuti rimbalzano di più. Non so come dirti. Hanno qualcosa in più, capito? E lo noti perché comunque fanno la differenza. Noi abbiamo comunque una buona parte dei tessuti molto belli, molto, molto belli. Devo dire, delle buone medie e delle eccellenze. Una bellissima selezione. Abbiamo dei tessuti stratosferici bellissimi, devo dirti la verità, su quello sì. Posso confermare. Dove quando li lavori è anche un piacere lavorarli, capito? È proprio un piacere lavorare con questi su di qua, che è un grande vantaggio. Che molte volte la gente non gli dà peso, perché molto la gente non dà peso a questa cosa qua, che è un errore, sì. È un grande errore, perché dovrebbe. Dipende tutto da quello, obiettivamente, dalla cascata dell'acqua. No, no, no. Poi certo. Poi ha una caduta diversa, capito? Per questo sì. Hanno caduta diversa gli abiti fatti con tessuti che hanno una certa cadenza. Proprio completamente diversa, capito? Certo. Però lo noti. Molti dicono, ah no, ma il peso… ci sono dei pesi, perché sai, di quei tessuti si va peso, 2,70, 2,50, 2,100. Chiaramente quelli più leggeri d'estate sono più critici, perché più leggero e meno tiene un po' la piega, chiaramente. Più il tessuto è un po' più secco, più te la tiene un po' di più. Certo, durano anche di più. No, no, ti sta meglio durante la giornata, lo passi in un certo modo, capito? E questo è fondamentale dei tessuti. Perché alcuni tessuti, quando li metti, si è preciso e perfetto per 10 ore, alcuni quando li metti non lo sai, capito? Concordo bene. Altro consiglio a dare ai clienti, da consulenti d'immagine, è sempre puntare su punti timeless, che possono essere duraturi, che poi magari puoi accostare con altre cose un po' più, tra virgolette, frivole. Certo, è una delle cose dove le persone amano quando tu gli spieghi le cose, quando gli dai dei prodotti, dei tessuti, che gli dici, guarda, questo qua è ingualcibile. Cioè, lo puoi usare, lo puoi tenere tutto il giorno, sarei sempre preciso e perfetto. Questa è una delle armi vincenti, dico. Perché la gente… Anche dove… Certo. 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 L'idea di poter uscire al mattino e non dopo tre ore trovarsi in mezzo il pantalone arricciato, la giacca stroppicciata, c'è questa cosa qua. Se sei uno che ti vuoi vestire, non lo accetti. Se ti vuoi coprire, ti va bene tutto. Questo concetto, capito? Infatti diviso sempre copri, copri, ti vestiti, che sono due cose diverse. Ma se ti vuoi vestire, allora tu accetti il consiglio nostro, come la consulente, dice, no, guarda, questo è tutto perfetto. Questo è più secco, te la piga, la tiene da Dio, non hai problemi. Lei esce al mattino, rientra la sera, lei è perfetto. Può stare fuori al suo cocktail, apri di scena senza problemi e lei sarà sempre preciso e perfetto questo. E questo è fondamentale, questo piace moltissimo alla gente. Lino, la tipologia di clientela con cui noi, insomma, abbiamo a che fare è comunque una tipologia di clientela di alto livello. Una cosa che penso che affascina tutti, o che perlomeno a me ha affascinato molto sin da subito, da quando ho iniziato a fare questo lavoro, è la riservatezza che ci, che permane, no, intorno ai singoli che si riferiscono a noi e si fidano di noi rispetto a consigli sullo stile. Ci vuoi parlare un po'? No, ma questo è specifico. L'inservatezza è la cosa fondamentale. Ti ripeto, questo proprio non… mai… tu puoi lavorare con chi vuoi e rimane sempre persone che sei solo tu chi sono. Punto. Fine di occhi. Già, per voi è già molto più complesso perché voi veramente dovete avere una riservatezza… È un lavoro psicologico, no? Per quanto riguarda poi il resto, rimane sempre una grande riservatezza nell'ambito di certi clienti di certo tipo, capito? Perché è fondamentale. Anche se sono personaggi famosi che non amano essere, capito, additati e dire, ma sai, viene questo… No, no, questo mai. Non viene questo, non viene quell'altro. Arrivano tutti, sono amici, amici clienti. Si crea quell'intimità che un pochino poi dà cadito al… Certo. E questo è fondamentale, questo è fondamentale per tutto, capito? Perché poi mantieni un rapporto tale, anche diciamo pseudo d'amicizia, capito? Di conoscenza. Assolutamente. Che è una conoscenza dove hai veramente un bellissimo rapporto, capito? Per cui… Dove diventi anche un punto di riferimento, no? È un punto di riferimento. E molte volte, io dico sempre, come ripeto a logico, uno può venire anche senza comprare. Non deve essere obbligatoriamente a comprare, capito? Viene anche per passare mezz'oretta, si beve un caffè, capito? Fai due chiacche. Io non amo il negozio come negozio, entri e compra, no. Tu entri, fai due chiacche e fai di success work, capito? Io, anche con tutti i ragazzi, quando ho fatto anche di video dicendo ai ragazzi, ma voi neanche direi che è il problema. Voi entrate come volete. Io vi saluto volentieri, mi salutate, facciamo anche la foto. Poi fate il vostro giro, lo vedete, non lo vedete. Oggi non potete, due anni potete, non c'è problema. Il bello del negozio è che uno dovrebbe riuscire ad entrare, guardare, vedere, senza essere oscillato il problema che devi per forza comprare, e sentirsi sollevato. E secondo me ne guadagneremo tutti. Tutti. Sì, diciamo che, sì, lo stesso ragionamento vale un po' anche per la consuenza immagine. In senso, se il cliente percepisce che tu fai questo lavoro solo per un determinato scopo, piuttosto che per avere genuinamente la volontà di migliorare il suo aspetto, la sua immagine, o anche semplicemente di salvargli un po' di tempo. Quindi avere genuinamente il suo interesse, prima di tutto, considerato che comunque viene comunque per pagarti in servizio. Però deve capire che non è l'aspetto economico quello che ti porta ad andare avanti, a fare questo tipo di lavoro per lui. Certo. No, certo. Questo è fondamentale. Ma questo, quando tu stavi in rapporto, è la prima cosa. La prima cosa è questa che devi capire. che non è tanto l'aspetto economico quanto è il lavoro che metti insieme, la costruzione che fai. L'aspetto economico è l'ultima cosa. Nel senso che comunque, stabilito il fatto che devo farlo, e questo è un accordo che hai prima in precedenza, tutto il resto deve sparire. Tutto il resto è una cosa comunque di una certa collaborazione da ambo le parti, dove comunque deve essere solo un piacere, capito? E questa è la cosa fondamentale. Questo è fondamentale. Anche quello di dover chiamarti e dirti guardo, vedo, dici il sorpo, poi alla fine sai cos'è? Rifletto. Penso a quello che mi hai detto. Certo, certo. Ci pensi, fai le tue riflessioni. Quando sei pronto per fare queste cose, ci rimettiamo in moto. È fondamentale, capito, questo? Lino, io sai benissimo che per me la cosa più importante per i miei clienti è quello di sponsorizzare quelle che sono le botteghe come le tue, uniche nel suo genere, gli artigiani e la sattorialità italiana, tutto quello che riguarda questo grande tesoro che noi abbiamo in Italia. prima di tutto per i miei clienti, perché ovviamente piuttosto che dargli una cosa un po' più banale e commerciale, è quello il mio punto di forza. Tu hai la definizione di lusso, secondo me è anche un pochino questa, no? Oltre che la qualità, il fatto di, una delle cose che mi piace molto anche della tua bottega, chiamiamola così, e del marchio che ti sei, del brand identity che hai un pochino fatto, creato in questi anni, è il fatto di non avere loghi sfarzosi da… Tu vai con una cosa di lino che non sai che è di lino, però ci vuoi raccontare un po' che cosa per te è il lusso e come rispecchi questa cosa in cui ti fai? Per me è il lusso opposto, sono sincero. Il lusso è un'altra roba. Il lusso è poter godersi la vita e avere il tempo per dedicarsi a se stessi. Per me questo è il lusso. Vero, vero, vero. Però se lo vuoi fare con qualcosa di nai, di carino addosso… No, no. Poi dopo c'è tutta una serie di cose piacevoli. Pacevoli possiamo chiamarlo, molti lo chiamano il lusso perché può avere un costo, può essere un po' più costoso o meno. Per cui molti intenderlo come lusso perché ti puoi permettere qualcosa in più rispetto a chi qualcosa in meno. Io andrei un po' più a fondo nel senso parlare proprio di lusso in quanto appunto quella qualità che magari la gente dice perché questa cosa costa più di questa. Sì, è vero, però costa di più perché comunque c'è un problema di tessuto, di materia prima che costa. Ma io non lo chiamerei problema però, insomma, c'è un lavoro dietro… Sì, no. C'è grande ricerca, questo dico. Grandissima ricerca che devi fare con tessutai, che è un grosso problema oggi perché oggi il grosso problema è la ricerca. Mancante materie prime. È veramente un grandissimo problema questo oggi. Comunque, ripeto, le grandi ricerche che tu fai, il poter consigliare cose che poi puoi dare, che alle volte tu consigli cose che poi non puoi dare perché non ti vengono consegnate, perché hai problemi. Cioè, oggi è veramente difficile, capito, stabilire un limite su queste cose qua. Assolutamente. E allora è talmente difficile che allora tu dici, stiamo nelle cose normali, in un qualcosa che è estremamente elegante. Sicuramente il lusso è qualcosa che… una volta oggi il lusso, non credo che… ti ripeto il lusso quello vero, cioè poter dire domani mattina sei cos'è. Sei cos'è di bello oggi mattina? Non vado in ufficio. Prendo l'aereo e vado nelle Maldive e faccio una settimana nelle Maldive. Questo è il più grande lusso di questo mondo che ognuno di noi dovrebbe poter avere e magari non possiamo avere. Sì, essendo un po' più filosofici la libertà in generale… Questo è il vero grande lusso. È come quello che dice devo farlo e sono costretto a farlo. Vorrei no, ma purtroppo sì. Gli usci sono tante cose, eh. Poi è chiaro che quando tu vai a comprare qualcosa da un oggetto che può essere l'orologio, la macchina, il vestiario, tu entri in un mondo dove puoi spaziare come vuoi, capito? Poi infatti parleremo molto più a fondo di questo, oltre che appunto la bottega italiana appunto come la tua che sono realtà uniche andremo anche a fondo sul fatto di quanto sia importante un accessorio che poi tu puoi anche… cioè sei un portatore nato di questo tipo. Cioè ami gli accessori o sbaglio? Sì, sì, a me piacciono molto i accessori. Io abbino tutto, io e tu. Abbino anche la mia penna a biro. Cioè ho le mie penne che le abbino sulle mie giacche senza problemi, ti dico. Abbinano quelle, abbinano le cinture, le scarpe, i bracciali, l'orologio. Cioè perché mi piace, vuol dire. Anche perché vuol dire, noi uomini non è che abbiamo tante cose, eh. Rispetto alle donne. No, appunto. Noi non abbiamo pochissimo. E allora ci giochiamo con… cioè può essere… oggi abbiamo gli uomini con i bracciali che sono molto belli colorati. Sono belli i bracciali, quasi tutti i miei bracciali. L'anello si inizia con gli anelli. Lo svuota tasca. Lo svuota tasca. Lo svuota è una figata perché tu prendi… togli le robe dalla tasca e non rovini la giacca. Questa è veramente una figata. Magari… Poi c'è un po' di persone che fanno sì che tu… che l'uomo può avere, che gioca dal gemello, un po' di pocheri colorati che non metterà mai, capito? Cioè tu quest'anno qua, la cintura di cocodrilo colorato che magari la mette mezza volta, però averla è una libide perché me la sono comprata, capito? Certo. Molte volte è poter dire me la posso comprare, capito? Quindi anche questo è il lusso, no? Certo. Una cosa è sapere, nonostante magari uno non lo fa vedere, il valore di quello che è. Certo. Oggi mi compro il cocodrilo arancione, la metterò? No. Però me la compro, capito? E questo è un lusso. Certo. E non è che se ti puoi comprare con un elastico, compri un cocodrilo, capito? O come porta a fare un cocodrilo, che lo prendi colorato. Perché? Perché ti piace? Perché… Dici che figata me l'ho preso… Certo. E sono i piaceri che noi uomini, cioè, abbiamo. Perché poi nel fatto del… nel vestire gli accessori e così vari, ce li andiamo proprio a cercare a resigare. E un giorno mi faccio una scarpa bicolore, un giorno mi metto sulla cravatta con la doppia pala diversa. No, è sicuramente un gioco, ma anche come da consulente d'immagine, poi alla fine, per quanto lo fa per un cliente, non per se stesso… Certo. È comunque un gioco anche per noi. E nonostante mi ero ripromessa di non farlo, però sicuramente… cioè, spero, anzi, ci dovrà essere modo di magari trovarci io e te personalmente e dare qualche opzione ai nostri clienti dal mio punto di vista, dal tuo punto di vista, insomma, unire e fare un pochino coesistere i nostri gusti. Sì. Però, a parte questo, io volevo… so che la gente già ti conosce, ma… parlarci un pochino… e so che magari tu stai un po'… che cosa mi sto per chiedere adesso qualcosa di cui non voglio parlare… però parlarci un pochino del tuo passato e di come l'uomo si avvicina allo stile e come questa passione nasce. Va, va, ti dirò… nasce… penso come tutte le cose, nel senso che qualcosa noi abbiamo dentro, di nostro, perché se no non potrebbe essere diversamente, lo dico. O ce l'hai dentro, se no non te la crei così per caso, capito? Per cui qualcosa devi avere, da quando sei ragazzo… Io sono convinta che, anche se magari non ce l'hai o credi di non averlo, da consumare le immagini dico che il mio lavoro è quello proprio di far riuscire un pochino quella parte, no? Quindi, tendenzialmente, sicuramente alcuni c'hanno di più, alcuni c'hanno di meno. Però magari qualcuno ha bisogno solo di una spinta, no? Nel far fuori uscire quella… Tu hai bisogno di una spinta, è vero. Però, se devo tirarci una cannonata per tirarla fuori… Verissima. Diciamo che, sai, chi ce l'ha, lo noti perché comunque… È naturale. Che è naturale, è molto naturale, capito? Poi ci sono persone che pian pianino la tiri fuori, no? Hai bisogno di prendere con le pinzette… cose che per te sono normali, semplicissime da fare… Cioè, ti alzo al mattino, io molto ottime, alzo al mattino, esco… La gente ti guarda e pensate, ma io così non l'avrei mai fatto, non ci sarei mai arrivato… Cioè, capito? Chi ha bisogno di, capito? È verissimo, è verissimo. Ma perché è vero che non ci sarei mai arrivato. Ma questo non gliela puoi tirare fuori. Però è vero. Però è vero che è più facile di quanto uno può pensare. Ma secondo me la gente è più facile che, guardando… Oggi c'è questo vantaggio di guardare anche tutti i video che sono molto interessanti, le proposte che tutti facciamo, è molto più facile. La gente, guardando, riesce anche a immedesimarsi nelle cose… Io vedo, quando faccio degli abbinamenti sugli audi che li presento, sui vari colori… C'è molta gente che mi scrive che mi dice, l'ho fatto, mi è piaciuto, è molto bello… Cioè, se gli dai una mano… Ecco, voi dovete entrare in gioco. Dando una mano a queste persone qua… Esatto. Voi dovete essere in grado di fare gli abbinamenti, però. La bravura vostra sta proprio in quello di poter dare la possibilità loro e di fargli vedere come si può cambiare, capito? Dagli proprio quei piccoli tocchi, piccoli consigli degli abbinamenti fatti dalla scarpa, la cravatta, la camicia… Uno ti chiede, ma io vorrei… Assolutamente. Metti un bracciale, mettilo, non è un problema, capito? Non metti una roba così, piuttosto che così… Io lo vedo quando mi chiedono, vorrei fare… Dico, io ne porto qualcuno in più, ma tu porti qualcuno in meno… Cioè, per dirti… Poi dipende dalla persona com'è, fisicamente… Certo, certo. Ma questo è il vostro lavoro, quello che tu, in base alla persona che hai di fronte, lo puoi veramente, capito? Mettere a punti e dire, no, guarda, questo sì, questo no. Assolutamente. Ed è fondamentale questa cosa qua. C'è qualcuno che chiede, ma che lavoro è? Lo style consultant, consultato d'immagine, è un lavoro che, appunto, definisce un pochino… Aiuta la gente, sia perché magari non ha tempo e quindi ci sono persone che non possono permettersi, in quanto lavorano tantissimo, di fare determinate cose a livello stilistico, magari ci penso io. Piuttosto che, appunto, come stiamo parlando con Lino, le persone che vogliono veramente fare un restyling e, a quel punto, li aiuti a fare piccoli accorgimenti per far fuori uscire questa attitudine di cui stiamo parlando stasera. Sì, diciamo che, per chi è veramente stra 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 impegnato, voi siete… Voi siete… Siete accediti alla sua torta. Gli togliete fuori da ogni problema dronia che loro possono avere perdendo tempo tutto quanto, lo prendete voi invece che loro, capito? Questo è… Sì. Poi ci sono anche dei valori aggiunti, no? Per esempio, una persona di da me, ovviamente, la qualità, come abbiamo parlato anche prima… Certo, certo. Non gli dai cose così a caso, nel senso che… No, no, no. Ci mancherebbe. Quello no. Sono tutte ricerche… No, no, quello sicuramente. È una ricerca continua, ecco, per… Anche perché voi dovete fare… Voi dovete fare molta ricerca sulle vostre cose che dovete fare. Ecco, i vostri clienti che voi avete dovete fare molta ricerca, anche per, ripeto… Assolutamente. Se avete presente che non ha tempo, che vi dà, che vi concede mezz'ora, magari, nell'ambito della settimana, vi dà un'ora alla settimana, e tutto lo devi sviluppare… Cioè, è tanta roba, capito? Che dovete fare? Cioè, Giuseppe… Per cui per voi è tanta, insomma, cosa, eh. Lino, c'è Giuseppe che dice il miglior consulente di immagini sono i negozianti come il Lino. Verissimo, anche questo è vero, perché comunque voi avete il contatto con le persone, centinaia di persone quotidiane, quindi potete creare quel tipo di… ho sbaglio? No, noi possiamo crearlo sicuramente, perché poi noi, posso dire, noi abbiamo un vantaggio. Noi ci divertiamo, capito? Perché noi ci divertiamo a fare… Io mi diverto quando faccio queste cose qua. Per cui non mi costa… Non lo faccio per nessun altro… Cioè, lo faccio… mi piace e mi diverte. Unisco uno e l'altro, capito? Il divertimento e il piacere, capito? Nel divertimento e il piacere è la vita finale che tu fai. Ha contenti la persona e questo è contento. Cioè, per amore di cielo, va tutto bene. Poi, come tu le cose non vanno bene. Non è che tutto va… ci può anche capitare. Però diciamo che una grossa mano tu gliela dai, capito? No, diciamo che la differenza tra magari appunto una consulente di immagine professionista e un Lino della situazione è ovviamente la parte un pochino più dettagliata e più tecnica che un cliente magari non può avere venendo dentro la bottega così per caso. E con la consulenza di immagine è un servizio leggermente più dettagliato dove si fanno appunto dei servizi come l'armocromia, il body shape, il facial shape, che determinano poi cose fondamentali per determinare che river portare. Beh, sai cosa che, ti ripeto, dipende sempre poi alla fine chi avete di fronte. Assolutamente. Perché come noi vediamo… Io poi sono considerato uno fuori dalle righe… Sembra ci siamo trovati? No, 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 tranquillamente. Per amore di cielo, quello sì. Però ti dico, io faccio parte fuori dalle righe perché c'è uno che per molti sono uno che ho sempre usato tanto nel modo di vestire. Assolutamente sì. Molti mi dicono, ma tu puoi mettere ciò che vuoi tanto te ti sta sempre bene. Dico, no. È una questione di riuscire veramente a indossare quello che ti piace. Dico sempre quello che ti piace. Poi è chiaro che puoi comunicarla in un modo migliore rispetto ad un altro. Questo sicuramente, capito? Però è fondamentale non vendere. Chi entra, il cliente che viene, deve comprare. Tu non devi vendere, capito? Assolutamente sì, concordamente. Lui deve comprare perché lui deve essere… la gioia deve averla lui. Non devo essere che ti spingo alla vendita. Lui che deve comprare, capito? E tu gli fai la tua proposta. Poi lui compra. E questo è fondamentale per me, capito? C'è anche le mie scarpe bicolore che faccio. Tutti un tempo io ho anni che le faccio. I doppio petto sono anni che le faccio, sembrava che è. Oggi, oggi il doppio petto è sdoganatissimo, senza problemi. Le scarpe bicolore altrettanto, capito? La mia camicia che faccio da 50 anni. C'è gente che dice che l'ha inventata lui. Tutti si inventano le cose, capito? A me non mi può fregare di meno, capito? Tanto io mi diverto a fare le cose, capito? Non è un problema. Infatti, un'altra cosa della sfera maschile, della sfera dello stile maschile, è il fatto di avere diverse regole da seguire. Io sono come te un pochino, no? Il fatto di non volerle tanto seguire. Cioè, una volta che le conosci, poi in base al tipo di corpo della persona, tipo di gusto, di stile, come appunto abbiamo parlato fino adesso, in base a quello puoi rompere queste regole. Cioè, è quello che poi crea un pochino il tuo stile personale, no? Cioè, io le rompo le regole, te lo dico. Eh, lo so bene. Io tutte le rompo le regole. Infatti, nei colori tutti le rompo le regole. Io ho spaccato le regole pazzesche, guarda. Negli anni. Ma proprio fuori dalle regole dico sempre. Io vado fuori dalle regole, senza problemi, tico. Forse è per questo che ci siamo trovati lì, no? Sì. Però ti posso garantire che fuori dalle regole, però comunque con un percorso ben preciso. Non fuori, capito? Quelli che vanno fuori strada. Certo. Seguendo comunque delle linee guida. Io la mia linea è questa qua. Fuori dalle regole sì, però comunque sempre con una certa linea, capito? Certo. Mai quella cosa che dici, no, ma non si può fare. No. Io le faccio. Poi ti può piacere. Esatto. Lo vedi, fai un po' più di fatica perché non riese, però quello è, capito? E io ti dico, in tutti questi anni lo vedo sulle cose che ho fatto, nei colori, su queste cose qua. Io colori che non ho mai fatto non ho mai avuto problemi, ti capito? Certo. Perché poi alla fine quando uno ha paura di provare, ma come dicevamo anche prima, quando lo prova è tutta un'altra cosa, no? Certo, certo. Forse, sai, devo farlo prima magari. E certo. Certo. Infatti molti sono così, eh. Molti dicono, ah cavolo, se lo sapevano, invece che buttare l'avrei fatto, l'avrei fatto, l'avrei fatto. Ti dico, sono dei colori dove poi ti calcolare che poi noi ragioniamo col mondo. Ormai un tempo ragionavi a quartiere, no? A me mi ricordo anche quando hai raggiunto il negozio. Oggi ragioni col mondo. Oggi parli da… Parlo con… Io sono a Milano, ti arriva quello dal sud, da Sicilia a Cardegna, Sardegna a Calabria, Sicilia. O ti arriva quello dell'Europa, ti arriva l'americano. Ormai è il mondo che comanda, capito? Per cui tu devi essere pronto… Certo. Open-minded e multitasking. Certo. Esatto. Ormai devi essere pronto così. Non ha senso perché tu puoi avere… Tu vuoi fare consulenza all'americano, al francese, all'italiano, al tedesco, al giapponese, al cinese, capito? Non è che il tuo cliente deve essere per forza l'italiano. Assolutamente no. È come il nostro. Non è quello. Ormai è il mondo. Tu lavori con il mondo. Il mondo è così. Oggi è italiano, domani è cinese, coreano, americano… L'italiano… Sì, questo è il nostro mondo oggi, questo qua. E devi far conto di queste cose qua. C'è una persona che chiede il blu con il nero, sì o no, nel 2023. Allora, prima di tutto noi siamo… Lino non usa il nero in generale. Io… No, blu… Allora… Allora… Però magari potremmo, quando ci rivediamo, possiamo fare delle… Io sono molto per il monotone. Sai, come fai un pochino tu, no? Usare magari lo stesso colore in diverse sfumature. Possiamo magari fare una diretta con questi consigli, no? A livello di colore al di fuori del blu e del grigio. No, no, ma… Ti dico… Allora, il nero… Il nero è veramente… Allora, ti faccio un piccolo… Allora, molti mi chiamano e dicono, sai, ho un abito nero, devo abbinargli una cravatta perché vado a una cerimoglia. Io dico, ma scusa, ma com'è l'abito… Ho comprato l'abito nero. Ma scusa, ma l'abito nero… Ma dove devi andare? Beh, è un battesimo, un matrimonio con l'abito nero. Ma come fai? Ti devo confessare una cosa, Lino. Io, a volte, ai miei clienti li butto un pochino e dicono, ma sì, perché non un abito nero? Ma l'abito nero non si può vedere. L'abito nero, guarda… No, dipende. È molto una cosa americana, secondo me. Molto una cosa internazionale, diciamo. Molto americana. Che però, ti dico, gli americani sì, però non più di tanto oggi. Perché gli americani stanno amando molto il colore, ti dico. E poi copiono tanti gli italiani. E vengono copiati. Io ho molti clienti americani, per cui professionisti, dove ti dico, giocano tutto sulle sfumature di blu. Sono cinque o sei tipi di blu, ma il nero ti posso garantire che è abbandonato. Cioè, anche perché il nero, a parte lo smoking, a me sono concesso, ma come fai a mettere su un abito nero con una cravatta? Cioè, venite un pugno in un occhio. Cioè… Allora, secondo me c'è stata tanta ignoranza sul colore in questi anni, no? Diciamo che adesso se ne sta parlando molto di più. Quindi, una volta che la gente capisce e impara a usarlo e dire, ah sai, magari non è così azzardato come pensavo. dico… E poi anche un pochino la libertà di espressione che ad oggi è un po' più… tu sei sempre stato il promotore, però non era per tutti così, no? No, ma è vero. Però ti garantisco che ti dico… io penso anche da ragazzo, non ho mai amato il nero, ma ha sempre portato una sfiga. Quello del nero è una roba che non ha… ma ha sempre dato una tristezza come colore nero. Amo tutti i blu, tutti… ma il nero è proprio una cosa che… ti ripeto, ho tolto lo smoking, lo smoking è nero. Cioè, oggi ci fanno gli smoking blu, ma per dirti di smoking nero è sempre stato nero lo smoking perché va bene. Ma se no, il resto ti dico… oggi fai dello smoking e fai blu, fai quel blu un pelo più chiaro, un blu un po' più tenue e poi oppure lo smoking nero come lo smoking bianco. Per me poi lo smoking… ti dico che io adoro il bianco, perché per me… No, ma… E' stato un vero in bianco il smoking, ti dico… io con le poche cose che ho fatto col bianco, ti dico… io sono stato venuto in Germania, ospite, a una mega festa sulla Champagne, e erai stato, mi diceva lo smoking… nero, io vengo solo col mio bianco, io il nero ce l'ho ma non lo voglio ammettere. Diciamo sì. Beh, ma non c'è stato il bianco, mi hanno accettato… Ah, questa cosa l'avevi detto, è vero. L'unico, ho fatto un sacco di foto, l'unico con lo smoking bianco sono migliaia, tutti neri. Io ho detto se volete vengo col bianco, se no a me che me ne frega. Non mi interessa neanche venire. Vette lo Champagne di questa marchia, mi volete con me mostri, io vengo come voglio io. Ognuno… partendo dal presupposto che il nero non è un colore, però ognuno ha un po' i suoi credi sul nero. Cioè Anna Wintour che non si veste di nero perché pensa che sia… Sì, no, no, è vero, è vero. Armani invece che si veste di nero, Armani si veste sempre di nero. Quindi ognuno… Ognuno ha le sue credenze, lo stile personale. Infatti io esprimo un mio, una mia cosa personale chiaramente, vendendo poi, avendo la mia attività, stabilisco i miei colori, chiaramente hai capito le pesti. Dico… Certo, certo. Mi metto un veto, tanto nei vestiti già… e molti mi chiedono l'abito nero e dicono non ce l'ho. Ma perché? Non ce l'ho, non mi piace. E molti mi guardano storti e mi dicono, ma come non le piace a lei, ma gli altri… Ah, io non faccio il nero. Io il nero non lo faccio, non ne piace no. Cioè… Ma io mi ricordo la prima volta che entrai nel tuo negozio, cercavo proprio una camicia nera e mi avete proprio risposto così. E a quel punto mi sono detto, ma che ci hanno… Poi io ho vissuto cinque anni a New York, quindi sai che a New York il nero è… È colore per eccellenza. Ma io la nera anche nelle camicie non la faccio. Io faccio la blu, ma la nera no. Perché non mi piace, mi dà un brutto… Certo, certo. È una cosa, perlomeno, che abbiamo… ognuno di noi ha qualche cosa che non funziona. E io ho qualcosa che non funziona con nera, te lo dico. Giustamente, ognuno le sue. Però hai deviato la domanda che ti ho fatto prima. Cioè, qual è che non mi ricordo più? Se ci parli un pochino di come sei entrato, no? A far parte di questo mondo e delle tue origini. Cosa ha ispirato tutta questa… Ma guarda, allora ti dico, io ho fatto un sacco di lavori prima di questo. Per cui io ti dico, potrei elencarti i lavori che ho fatto che oggi nessuno li farebbe. Perché non capisco che la gente non vuole lavorare. Io lavoravo, ho fatto veramente da… pulivo negli uffici. Ho lavorato nei mobili. Ho lavorato nei… facendo traslocchi. Ho lavorato… Cioè, io finalmente ho sempre fatto… Tutti i lavori ho fatto. Ho fatto pure… Andato pure in scuola di parrucchiera. Ho fatto pure in parrucchiera, ragazzi. Vedi, tu, da donna. Per dire… Ma perché comunque… Ma perché per me era fondamentale lavorare, guadagnare per divertirsi. Questo era… Io era così. Poi alla fine mi sono abbracciato… Per diti… Per acchiudo… Avevo trovato questo mondo qua comprando… Comprando… Caricando in macchina delle cose tipo… Delle cose che compravo in stock… E andavo in giro a vendere, capito? Sai quella roba che racimolavi al sabato che non lavoravo su queste cose qua. Ho lavorato negli orologi. Ho fatto anni in un'azienda di orologi a lavorare. Per diti… Però il sabato, essendo libro, cercavo di fare tutti questi lavori per portare a casa i soldi. Perché io la sera mi vestivo… Mi vestivo. Mia madre… Come Dio comanda. Cugliese, Sartina, mi vestivo come un principino, capito? E facevo le mie charate. Però guadagniamo soldi… E facevo lavori. Poi alla fine sono capitato… Sono capitato nel 69 in questo negozio che era un buchino, che era una jeanseria, e mi sono innamorato. Mi sono innamorato. E sono rimasto dentro. Sono rimasto lì. Jeans, capelli lunghi, bandana… Cioè… Le mie foto… E ti dico… E da lì è partito tutto. Poi questi qua chiaramente sono ritirati nel giro di poco. Io che ero dentro… Ho detto… Sai cosa c'è? Era feconto che è stato 15 metri quasi. Ho detto… Cioè cosa c'è? Ribaltiamo tutto. Dato ribaltiamo. Da jeanseria a robe in alto, in cielo, cose buttate per terra perché era tutto così. Perché era… La musica palla con le zeppole. Eh? Con l'Equipo 94… Sai cosa c'è di bello? Ribattiamo tutto. E da lì è ripartito tutto con tutta una serie di cose. Partendo pian pianino facendo questo, facendo quell'altro. Da lì è stata tutta una partenza… Che adesso la pintala diventa molto complicata. Too much! Cioè… Eh? Devo dire che… È ripartito tutto da lì, capito? E devo dire che è stata una grande avventura, grandissima avventura devo dire. Che lì ho capito che era il mio lavoro. Quello era il mio lavoro. Io già amavo vestire perché mia madre mi lavava, mi stirava perché era facendo sarta le camicie, il pantalone, mi faceva tutte le cose. Io uscivo come veramente a domenica con la mia maglia azzurra perché io già avevo… Era partito dal pullover a via azzurro, capito? Cioè, mia scarpe, il pantalone bluppo, la verra azzurra, la camicia bianca… Che mi faceva mia madre per una sartina, capito? Ma io ho sempre lavorato. Più io ho lavorato prestissimo da piccolo. Per cui ti dico… Non ho mai avuto questi problemi che adesso ti no, questo no. Com'è? Cazzo mi frega. Io facevo di tutto di più. Io faccio tutto di più. Perché mi doveva divertire. Cioè io non è che mi frega più di tanto, capito? Questo è. Io ho una domanda che poi vorrò ricollegare a un argomento. Tu dici che appunto hai questa passione da sempre. Se all'inizio, no? Quando appunto iniziavi a proporti, piuttosto che nel mondo del lavoro, avresti mai pensato, se avessi avuto l'opportunità e se questa figura, insomma, come appunto la consulente se l'immagine esistesse, fosse esistita ai tempi, di poter potenzialmente chiedere consigli, piuttosto che… o come io credo, soprattutto nel target italiano, medio, di avere un pochino un ego. Io non ho richiesto niente a nessuno, te lo dico. Vedi? Allora, hai giocato! No, ma io sono sincero. Anche perché ti ripeto, io ti dico veramente, io ricordo. Io poi, per conto, sono milanio di Baggio, per cui Baggio e Milano. Cioè appena appena, per conto era periferia nel senso di Milano. Per cui ti dico, per noi, mettersi a puntino, prendere, perché eravamo giovanissimi, il tram, e andare in San Babila e passare la serata a Dal Pedrini. Ed erano affigati, capito? Noi eravamo… Quindi convieni… E noi… è tutto così, capito? Cioè la bellezza di quando eravamo 16, 17 anni, 18 anni, capito? Ed è una roba che veramente… raccontare… Io, mi spiace, per i giovani di oggi non potranno mai… Ma… convieni dunque con me che magari la consulenza d'immagine ad oggi è un concetto un pochino più accettato, perlomeno per la mia clientela… Sì, ma sei perché… Da una clientela più internazionale… No, ma certo, ma perché oggi noi… il mondo è cambiato, capito? È cambiato, negli ultimi 50 anni il mondo è cambiato. Oggi il mondo, lo vedo io, che chiedono… Lo vedo io quando ho fatto consulenza in Cina, in Corea, in Giappone… Lo vedo io… Che mi chiedevano le cose… Andavo a fare consulenza all'alti… Dico… Per cui il mondo è letteralmente cambiato… Perché la gente stessa è cambiata… La gente lavora di corsi, impegnatissima… Gli uomini di affari hanno pochissimo tempo da dedicare a loro stessi… Non ne hanno quasi mai… C'è chi si dedica per loro, capito? E sono loro che sono quelli che hanno bisogno… Magari vivono tra un aereo, una barca… È una riunione che hanno… E mille cose… E non hanno tempo neanche di fare niente… Allora c'è il suo consulente di immagini che dice… Allora, dunque… L'armadio deve essere fatto dallo smoking… L'abito così… L'abito così… L'abito così… Le quattro giacche sportive… Le quattro gine… Le quattro sneaker… Le quattro scale da abbinare… E li organizzi in guardaroba… E questo è il lavoro del consulente di immagini… Del consulente di immagini assolutamente… E parte tutto da là… E certo… Gli riempie il suo guardaroba… Questo deve fare altro che… Non deve guardare nient'altro… Si spoglia… Si veste… Arriva a prendere cose… Alla cena di gala… Perfetta cena di gala… Devo andare in smoking… Allo smoking… Devo andare in time… In soltanto… In base chiaramente al tipo di rapporti… Con il lavoro che questa persona ha o meno… Capito? Esatto… Noi il lavoro appunto è proprio… Capire lo stile di vita del cliente… Per poi definire… Quanto tempo spende in una certa attività… Piuttosto che nella propria professione… Per poi capire… Come abbiamo detto prima… E spero appunto ci sarà modo magari… Di fare una piccola diretta… Più concreta e più pratica… Per definire quelle cose basiche… Essenziali… Timeless… E anche un pochino durature… Da avere nell'armadio… E poi appunto divertirsi… Con le cose che troviamo da lino… Eh… Colorate… Dove veramente esprimi la tua personalità… Dunque… Possiamo dire che… Eh… Sono due realtà che coesistono… No? Il fatto di… Eh… La consuenza d'immagine… Nel… Nel trovare appunto prodotti di qualità… Come vendete… Come vendete voi… Botteghe italiane… Uniche nel loro genere… Certo… Sicuramente sì… Anche che voi… Potete comunque… Profittare… Di questa cosa… Che trovate nelle botteghe… Come le nostre… Come nelle sartorie… Che ce ne sono tantissime… Di cui poi… Dove sicuramente… Dove sicuramente… Voi avrete molto bisogno… Questo… Per me… Per voi è molto importante… Capito… Avere a che fare con sartorie… Da quello che vi fa gli abiti… Quello che fa le camicie… Quello che fa le scarpe… Cioè… capito… Presenteremo anche… Noi siamo… Certo… Voi presenterete sicuramente… A molti di questi… Noi siamo la parte più veloce… Capito… Perché… La nostra è molto più veloce… Capito… Nel… Nel fatto che tu possa prendere e far disfare… Perché tutto il resto… Le sartorie… C'è la cosa molto più lunga… Dovete organizzarla… Dovete calcolare i tempi… Perché i tempi sono totalmente diversi… Capito… Per cui… Tu devi sapere che hai dei tempi… Che non sono proprio tutti uguali… Esatto… Quindi anche molto dipende dalla… Dalla disponibilità del cliente ad aspettare… Certo… Perché noi parleremo… Parlerò… Parlerò io personalmente di… Certo… E delle eccellenze che appunto… A cui faccio riferimento… Però insomma questo sarà poi in seguito… E… Da quant'è che… Consulenti di immagine come me… Busano alla porta, no? Quindi da quant'è che… Che questo ruolo… Si accosta alla tua realtà… No… Guarda ce ne sono parecchi devo dire… Devo dire… Un tempo c'era… Io ho fatto tempo a conoscere… Anni e anni fa… Ti dico la verità… Due o tre personaggi… Che si occupavano… Erano… Diciamo… Che non erano consulenti di immagine… Ma erano dei maggiordomi… Che ho conosciuto… Fantastici… È un po' un servizio di concierge… Sì… No… Però maggiordomi che vivono in casa… Capito… Che si occupavano di tutto… Fantastici… Dello stile di vita… Certo… Devo dire… Una delle cose dove mi aveva colpito… Perché mi sarebbe piaciuto fare il maggiordomo… Per dire… Tanto mi piaceva il modo con cui… E la cura che avevano… Io le ho conosciuto veramente persone straordinarie… Straordinarie… Verissimo… E quello è un mondo… E quello è un mondo… L'altro mondo è quello di… Gente che… Si occupa… Digiamo… Di vestire personaggi… Di corsa veloce… Arriva… Molto… Infatti… Non… Non è che proprio… Ma infatti… C'è questo grande… Tu dovresti… Perché… Non… Non è proprio così… Capito… Che intendiamo nelle cose… Molto volte ci scontra… Concordo… Perché non è… Un modo di costruire… Ma è più… Basato sul business… Che non… Sul… Sul… Sul prodotto… C'è capito… E' più business… E' un po' un casino… Capito… Quindi… Poche parole… Tu preferisci collaborare con… Con solette immagini come me… No… No… Con solette immagini che ti chiede… Che ti chiede le cose normale… Che si affaccia… E… Parla la tua lingua… E parla la tua lingua… E' tutto ok… Capito… Riesci anche a fare un buon lavoro… E fare un mix… Che può comunque avere un buon risultato… Certo… Rispetto a quelli che magari… Vengono già con… No… Io devo fare questo… Questo… Tu fai questo… Questo… No… Perché ho bisogno di questo… Ma questo secondo me… Tu dici… No… Perché… Allora ok… Va bene… Fate voi… Non mi frega niente… Capito… Capisco benissimo… La fortuna è che noi ci siamo subito presi… E sono molto contenta di questo… E la cosa che differenzia di me… È proprio quello di… Di essere… Come dici tu… Un po' maggiordomi… Perché… Non tratto solo della parte stilistica… Ma cerco sempre di… Ampliare un pochino lo spettro… E cercare di soddisfare… Se il cliente ha bisogno di… Non lo so… Strutturare casa… B-Man da… L'interno designer che… Assicura che questo avvenga… Piuttosto che… Vuoi coccolare la moglie… Allora B-Man ti aiuta a fare questo tipo di servizio… Certo… Diciamo che… Ci sono consulenti e consulenti… Il… Il servizio strutturato da B-Man è molto completo… E… E cerca appunto queste… Di avere affinità… E… E approcciarsi a queste realtà come la tua… È verissimo che è molto importante la chimica che si crea… Tra un consulente… O il commerciante come te… O il sarto… O il… Perché ci deve essere sicuramente… Comprensione… Rispetto ovviamente per i ruoli… Però obiettivamente… Lo scopo finale comune… È sempre quello di… Di avere il cliente soddisfatto no? No no… Quello sicuramente… Quello sì… Tanto più che guarda… Ti posso dire che poi su queste cose qua… Molti… Possono capire… Il significato… I consulenti d'immagine… Molti no… Te lo dico… No infatti è… È un concetto sicuramente… Anche nuovo in Italia… È un concetto molto nuovo… Serve a chi non ha tempo… E a chi obiettivamente… Non… Non si trova… Non si… Non si rispecchia nella sua immagine… No no… Ma quello che è fondamentale… Come sta andando oggi… Come si sta avvolgendo oggi… Tutto questo… È un grande salvatore di tempo… Cioè… Il tempo… Cioè… Tu non hai idea di… La gente… La gente che veramente… Non ha neanche il tempo di… No… Lo so… Perché i miei clienti li vedo una volta… No… Ma è questo… Questo è il punto… È vero… Non tanto quelli che hanno… Zig di tempo… Che si alla meno… Sbagliando… Sono quelli che hanno tempo… Sono quelli che tu… Te li vedi una volta all'anno… È vero… E quella volta che li vedi… È vero… Quello che ha di avere la forza e le capacità di fare tutte queste cose qua… Questo sì… Certo… Anche in assenza del cliente… Certo… Ma è fondamentale quello… Anche in assenza del cliente di saperlo fare… Non è che devi farlo solamente… Certo… Ragionare… Ragionare col mondo… Perché è chiaro che c'è qualcuno che dice… Ma a me… Non mi interessa… Ma… Così… Non è per chi non ha problemi… Capito… O per chi se la può minare… O per chi si vuole divertire da solo… No… Infatti stiamo parlando di un target alto… Certo… È per chi non ha il tempo neanche di… Di farsi la barba al mattino… Per dietro… Capito… Eh… Ma ne esistono… No… È pieno… È pieno il mondo… È pieno il mondo… Io… A me è capitato… Quando giravo tra Cina e Corea e Giappone… Vedevo queste aeree che ci spostavo all'interno… Vedevo gente… Che mi è capitato di vedere delle persone… Mi è capitato diverse mattine… Diverse… Cioè… Che li vedevo il mattino e li vedevo la sera… Cioè… Ma questi non dormono mai… Non vanno… Ma zero… Ma lo capisco… Cioè… Purtroppo è per fortuna… Perché poi… C'è qualcun altro che si occupa di loro… Esatto… Di chi fa questo lavoro… A 360 gradi… E si occupa… Non… Diciamo… Di quelli che possono essere… Molto più semplici… Da gestire in Italia… No… Di quelli che si occupano in tutto il mondo… Perché il mondo… Ti può chiamare… L'americano… L'australiano… L'inglese… Francesco… Ho bisogno… Di una persona che si occupa del mio guardaroba… Va bene… Venga domani mattina… E do mezz'ora di tempo… Tu da mezz'ora che vai… Devi vedere… Potete fare con gli occhi… E dire… Manca questo… Non voglio neanche sapere nient'altro… Capito… Questo è… Cioè… Il nostro lavoro è anche cercare un pochino di entrare nella vita di questa persona… Certo… In vita di questa persona… Vedendola per quel poco tempo che magari la vedi… Quel poco tempo che hai… Certo… E poi crearci veramente uno stile di vita intorno… Quindi… La consulenza d'immagine… È… È un valore aggiunto… Diciamo… Certo… Non è facile… Non pensare che sia una cosa semplice… No… È anche una cosa molto… Molto più complessa… È molto più complessa ti dico… Assolutamente… Quello sicuro… Su quello sì… Io direi… Noi abbiamo… Abbiamo sforato l'ora… Però… Spero ci saranno più di una diretta… Certo… Va bene… Volentia… No… Sarà volentia… La facciamo più di una diretta… Magari dal vivo… La prossima volta… E diamo dei consigli… Un po' da ogni punto di vista… Un po' da un altro punto di vista… Così almeno la gente un pochino ha… Una coesione tra i nostri stili… Che dicono… No… No… Guarda… Saluti da Napoli… Ah… Club 5… Buona serata… Dopo Armani Lino… È un grande complimento… Sì… No… Devo dire… Veramente grande… Lino… Il piacere colore… Certo… Mi piace colore arancio… Io amo tutti questi colori qua… Perché non ho problemi… Fabrizio Luzio partecipa… Come partecipa… Presto il secondo l'ancio… Da Argentina… Poi… Sei un grande maestro… Vabbè… Comunque… Vabbè… Io li ringrazio tutti… Perché poi li ringrazio tutti… Questo… Questo è un tema di cui parleremo magari nelle prossime dirette… Ma perché si è fatta l'eleganza… Perché non si ha più voglia di indossare una cravatta… La cravatta è un mondo… Di cui parleremo magari… Questo è un mondo… Mia figlia che mi ha salutato… Ciao papà… Vedi… C'era collegata mia figlia… Ma dai… C'era tua figlia… No… C'era collegata prima… C'era collegata prima… C'era collegata prima… Andremo a cena insieme… Mi hai promesso questa cosa… Io e te… Tua figlia… E la famiglia… No… Volentieri… Volentieri… Guarda… Capitare ad esempio… Tu sai che… Esco da questa rogna… Di questa polmonite… Di venti giorni… Dovano fare una scena insieme… Va bene… Va bene Lino… Io ti lascio riposare… Ok… Perché so che hai avuto una giornata molto lunga… Sì… Oggi è una giornata particolare… Va bene… Ma questa è la prima di una lunga serie… Ok… Perfetto… Va bene… Sarà un piacere… Figurati… Ciao… Ti ringrazio… Buona serata… Buona serata… Grazie a te… Ciao… Allora… Sai che non so come si fa… A me lo dici… Sì… Oddio… Sai che non so come si fa… Allora… Baby… Io… Aspetta che… Non lo so… Non lo so… No aspetta… No aspetta… No aspetta… Per spegnere so che… Io lo facevo… Aspetta… Chiamo… La tata… Io pure chiamo assistenza… Assistenza… Mi ricogno lì… No… No… Come si spegne qua? Ragazzi… Non ci giudicate… È la prima diretta… No… Allora… Allora… Dov'è che spegne? Da lato… Chiudo… Chiudo io… Un bacio… Ciao… 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 Eh… Che… Are you sure you want to… Sì…